La CGL dice la sua sulla recente ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Belluno. Attraverso una lettera aperta indirizzata alle associazioni, Mauro De Carli, segretario generale della CGL di Belluno, esprime la sua preoccupazione nei confronti dei lavoratori delle piccole imprese, della prossima stagione turistica e in linea più generale si dice allarmato dall'ombra dello spopolamento che incombe sempre di più in un territorio già difficoltoso e problematico. Ma è un interrogativo che poniamo soprattutto all'associazione di datori di lavoro per capire effettivamente quale sarà la ripresa delle piccole attività produttive nelle zone alte della provincia colpite in maniera paurosa in questi giorni e anche se effettivamente sarà riproponibile una ripresa seria di quella che è la stagione turistica e quella dell'attività turistica partendo dagli impianti di risalita per arrivare ovviamente agli alberghi e alle attività connesse al vero ricevimento dei turisti. Nel frattempo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas è salito a Taibon a Gordino per tastare il polso di una delle zone più colpite dalla furia del maltempo. Il sindacato comunque auspica delle azioni concrete da parte di tutti. Io credo che tutti siamo comunque concentrati nel ricostruire il nostro territorio, la nostra vivibilità e anche appunto le attività industriali e non solo sul territorio. Quindi credo che nei prossimi giorni effettivamente dovremo incontrarci e capire fino a che punto come dire si pensa di rimettere in sesto una serie di attività, una serie di proposte per il nostro futuro che non sono solamente quelle di riproporre to cure il modello esistente che abbiamo oggi in provincia di Belluno.